Io penso che uno dei problemi che oggi ha il centro-sinistra è di avere costituito un partito che non ha una radice storica. Io penso, lo ritengo da tempo, anche per questo sono, come dire abbastanza, ma non ne faccio colpa a nessuno, se non in parte anche a me stesso, perché ho resistito a lungo per tenere in vita quel trattino tra il centro e la sinistra, attaccato da tutti per questa mia posizione considerata arcaica, superata, nostalgica, e quindi a un certo punto ho acceduto all'idea che si dovesse far cadere quella distinzione e ho sbagliato. Quando ho ceduto ho sbagliato. Quando resistevo avevo ragione. Facciamo così. Perché lei dice che è stato lì che la sinistra ha perso la sua identità. No, io dico che se noi oggi avessimo un partito della sinistra con una radice chiara nella storia comunista, socialista, italiana e un partito cattolico, democratico, con una radice chiara nella storia della DC, il centro-sinistra sarebbe più forte rispetto al fatto di avere costruito un partito privo di una identità chiara. Poi alla fine le acque si sono separate di nuovo, perché Renzi, le acque hanno finito per separarsi di nuovo. No, con me le acque ci sono state infinite separazioni, però in questo processo di cambiamento si è smarrito il senso di un'identità e di una radice storica e questo è stata una perdita di valore. Quando abbiamo detto che i partiti non dovevano essere ideologici, abbiamo sbagliato. I partiti devono essere ideologici. Sì, bisogna capire, oggi.